Luciano, affacciati! Affacciati! Luciano! Ciao a tutti! Ciao ragazzi! Finita l'avventura, bellissima esperienza Noi siamo ancora qui e continueremo ad andare avanti Sempre in perteniti E non finisce qui! Esatto, come dice il fratello Rocco, non finisce qui Nel nostro bagaglio tante esperienze, tante cose belle L'abbiamo incamerate tutte Oh, pardon! La gente ci vuole sempre più bene E vediamo tanta tanta fratellanza che ci abbraccia E questo significa che lavoriamo bene E grazie anche al vostro sostegno Ciao! No, basta dire grazie a tutti e alla prossima Ok Si torna realizzati Si torna sempre più realizzati Grazie di cuore a tutti Un abbraccio a tutti Ci vediamo al prossimo evento Di cuore, grazie a tutti Di cuore, ciao! Ciao! Ciao!